Buonasera, benvenuti ad Omnibus Notte. Allora, la giornata di oggi sarà quella dell'inizio delle nuove rapide consultazioni, così le ha definite il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che ieri, lo avrete visto nelle dirette televisive, ha di nuovo giurato per il suo secondo mandato ed ha sferzato le forze politiche in Parlamento con un discorso che sicuramente sarà ricordato perché probabilmente può rappresentare un punto di svolta nella storia istituzionale italiana per i modi e le cose che il Capo dello Stato ha detto in una situazione di grave difficoltà politica con un forte indirizzo su quello che potrà accadere. Perché ha chiesto ai partiti, ha rimproverato ai partiti i ritardi nelle riforme che pur erano state promesse, ha rimproverato anche alle forze politiche l'incapacità in questo momento di trovare quelle alleanze che non sono un elemento negativo, così ha detto Napolitano, per superare lo stallo politico e dar vita ad un nuovo governo. Siamo entrati quindi in una fase completamente diversa rispetto a quella che abbiamo vissuto in questi primi 50 giorni dopo le elezioni, elezioni che non hanno dato una maggioranza certa. La Camera cede, era la coalizione di centro-sinistra, al Senato invece questa maggioranza non c'è. Adesso c'è un Capo dello Stato, lo stesso di prima, nella pienezza dei poteri, può anche sciogliere le Camere, dovrebbero essere consultazioni rapide per una soluzione, sì o no, governo oppure elezioni. Buonasera a Davide Zoggia del Partito Democratico. Buonasera a voi. Buonasera a Mario Marazziti, Scelta Civica, tutti e due deputati. Deputato anche Simone Baldelli che è il vicepresidente dei deputati del Popolo della Libertà. E buonasera a Gennaro Migliore che fa il capogruppo invece di Sinistra, Ecologia e Libertà alla Camera. Zoggia, parto da lei. Allora, non si può certo dire a Napolitano che abbia nascosto i problemi e non abbia fatto chiaramente capire che cosa si aspetta dai partiti e cosa chiede alle forze politiche, intanto senso di responsabilità. Che cosa accade adesso, Zoggia? Insomma, il discorso di Napolitano è stato un discorso che ha chiamato le forze politiche e la responsabilità e ha tracciato anche una rotta per quanto riguarda i prossimi mesi. Insomma, è una rotta fatta di attenzione e di provvedimenti che devono essere assunti per il bene del Paese e di provvedimenti legati alle riforme istituzionali. Mi pare che su questo ci siano passaggi molto forti. Ha ovviamente bacchettato un po' a destra, un po' a sinistra, anche il Partito Democratico per il fatto di non essere riuscito nel settimana scorsa ad eleggere il Capo dello Stato in una situazione che si era profilata. Quindi, insomma, credo che da questo punto di vista abbia svolto a pieno il suo compito, il suo ruolo. Ha anche detto che nel momento in cui le forze politiche sono andate a chiedergli di ricandidarsi ovviamente lui lo ha fatto prevedendo però che ci sia anche un governo. Insomma, e quindi è evidente che l'atteggiamento che noi teremo nelle prossime ore sarà un atteggiamento innanzitutto legato alle consultazioni che partiranno domani e che vedranno mercoledì, credo, il Partito Democratico essere consultato. Che già è una cosa complicata, gli andrà per il Partito Democratico, andranno i capigruppo. Andranno i capigruppo, presumo, con il vice segretario. Perché oggi, ormai, martedì, c'è la riunione della direzione importantissima perché c'è tutto il segretario e la segreteria di missionari. Sì, ma penso che ci andranno i capigruppo e mi auguro che ci vada il vice segretario insomma, se Bersani dovesse confermare domani le dimissioni. E poi affronteremo una discussione, ma insomma, posso già dire che per quanto riguarda la proposta che verrà fatta, insomma, il Partito Democratico è orientato alla positività. Insomma, è evidente che dopo un discorso come questo, dopo quello che si è creato settimana scorsa, certamente cercheremo di far presente quelli che sono anche le nostre, diciamo, priorità, però, insomma, è evidente che il discorso di Napolitano traccia una rotta ben chiara e ben precisa e credo sarà molto difficile discostarsi da quella rotta, insomma. E allora, vado a sentire l'altra parte dell'alleanza Italia-Benecomune che ha vinto le elezioni. Migliore, non mi pare che voi siate d'accordo con il PD. Non eravate stati d'accordo con il PD nella scelta di votare Napolitano due giorni fa. E adesso? Noi abbiamo sempre espresso grande rispetto e anche grande ammirazione per la figura di Giorgio Napolitano. Tra l'altro, oggi mi hanno colpito alcuni passaggi particolarmente significativi, soprattutto quando hanno fotografato lo stato quasi di decomposizione del sistema Napolitano. Ai noi. E questo, devo dire, mi ha trovato molto d'accordo, soprattutto quando ha richiamato la responsabilità coloro i quali insistevano ancora di più nell'applaudirlo. Io l'ho applaudito, ma onestamente l'applauso così scrosciante sul richiamo, sul fallimento della legge elettorale... Autoassolutorio lo ha definito. Sì, mi è sembrato infatti che lui abbia colto con grande acume questa idea che ci si possa salvare attraverso una figura di prestigio straordinario come la sua che, peraltro, si ritrova in una condizione onestamente non facilissima, anche dal punto di vista costituzionale, visto che lui stesso in più occasioni aveva ribadito quale era l'orientamento della non riconferma di una figura come quella del Presidente della Repubblica, che è del tutto anomalo nel nostro ordinamento. Però, insomma, se c'è bisogno di Giorgio Napolitano in questo momento, è perché i partiti hanno mancato un'occasione importante. Vorrei dire che certamente ci sono responsabilità di molti, però io penso che dal punto di vista della possibilità del cambiamento la prima responsabilità la porti il Movimento 5 Stelle, che ha congelato una parte significativa del consenso del Parlamento e del grande consenso che aveva raccolto nel Paese. Peraltro il Movimento 5 Stelle, che è stato molto ridimensionato anche nell'ultima competizione, quella di oggi, del Friuli Venezia Giulia, dove credo abbia praticamente dimezzato i voti. Se si cerca il cambiamento, si deve essere pronti a favorirlo. Noi abbiamo lavorato, paradossalmente, nel corso di queste ore, su una candidatura che vedeva anche la disponibilità del Movimento 5 Stelle, per cui ci sentiamo in questo momento quella di Stefano Rodotà, che era una candidatura altrettanto prestigiosa, che io penso avrebbe potuto avere anche i voti del Partito Democratico. Secondo me è stata una sottovalutazione quella di non considerare la statura e la figura di Stefano Rodotà e di incasellarlo solo come candidato del Movimento 5 Stelle, per cui noi non abbiamo votato contro Napolitano. Abbiamo individuato in Stefano Rodotà una candidatura che parlava... Ci faccia capire un elemento politico. L'alleanza esiste ancora, Italia bene comune, oppure possiamo considerarla chiusa? Ma guardi, dal punto di vista del progetto nella società italiana esiste, abbiamo appena vinto le elezioni in Friuli Venezia Giulia. Siamo candidati a governare insieme in quasi tutte le amministrazioni italiane. La gente nostra, il nostro elettorato, mi pare che indichi con chiarezza che c'è quella come strada da percorrere. Certo, a livello nazionale ci ritroviamo in una condizione simile a quella che c'è stata con il governo Monti, dove noi eravamo all'opposizione, anche se fuori dal Parlamento, e il PD a sostenere. Quindi lei non condivide la disponibilità che questa sera arriva ad esempio da Zoggia, perché altri compagni di sud del suo partito la pensano diversamente. Ed è il punto politico sul quale non ho ovviamente un consenso con il Presidente della Repubblica, che si possa considerare Berlusconi come Aldo Moro, cioè il facilitatore di un compromesso storico. Berlusconi è Berlusconi, Berlusconi non è la balena bianca, e il Caimano è una figura che all'interno del nostro Paese ha diviso, ha organizzato il rancore, ha fatto crescere il populismo, ha impedito che ci fossero riforme fondamentali per il Paese. Io penso che ogni volta che c'è una emergenza, è chiaro che una figura di responsabilità, la più importante come quella del Presidente della Repubblica, che doveva fare? ha dato una sferzata, anche secondo me molto bella, dal punto di vista anche della capacità, anche il fatto che si sia commosso. Per me è stato un momento veramente emozionante, perché mi ha messo in sintonia anche con l'uomo napolitano. Però onestamente la maggior parte del Paese non credo sia così felice di vedere una collaborazione PD-PDL, soprattutto perché il PDL è il PDL di Berlusconi. Allora Baldelli, veniamo proprio a Berlusconi che ha definito il discorso di oggi sentito da Giorgio Napolitano come il migliore che gli è capitato di ascoltare in 20 anni che frequenta l'Aula di Montecitorio. Quindi perfettamente d'accordo sulla ricetta, sulla diagnosi e sulle cose da fare. Mi sembra assolutamente condivisibile il giudizio di Berlusconi. Il Napolitano ha toccato i temi più importanti dell'agenda politica del Paese. Ha fatto un discorso intellettualmente onesto, carico di speranza, di messaggi positivi, ma anche di critica. Ha detto di non incedere ad autoindulgenze da parte della classe politica, si è contrapposto alle campagne demolitorie che vengono fatte in maniera assolutamente improduttiva e negativa nei confronti del sistema politico. Ha rilanciato la politica con la P maiusco, la politica che fa battere il cuore e che porta avanti il Paese. Il confronto, il dialogo e la ricerca di soluzioni. Sono passati quasi 55 giorni dalla data delle elezioni, non abbiamo un governo. È chiaro che chi viene dalla storia comunista come migliore abbia una pregiudiziale anti-berlusconiana, al pari di quanto, credo, tutti coloro che hanno avuto nella loro storia politica una condivisione di un percorso con Berlusconi, abbiano legittimamente una pregiudiziale anticomunista. Ma oggi abbiamo la necessità di dare risposte al Paese. E Napolitano traccia una strada molto seria da questo punto di vista. Dice Napolitano nel suo intervento di oggi che chi guarda con orrore la parola larghe intese di fatto dà luogo a una regressione. Quando si realizza un consenso ampio è evidente che questo è un elemento positivo, non negativo. Così come il consenso ampio che si è realizzato su Napolitano non è stato certo un golpe, o come poi Grillo ha cercato di rattoppare dicendo un golpettino, non ho capito bene. Insomma, ecco, e sulla stessa linea realizzare un governo di larga intesa, ma un governo politico, forte, di legislatura, che dia risposte al Paese, con tutte le difficoltà che abbiamo, quindi quelle della crisi economica e quelle delle riforme istituzionali, che pure per chi ci ascolta a casa probabilmente sembrano, diciamo, un discorso molto distante, perché probabilmente con le riforme istituzionali non si mangia, ma è il modo per adeguare il Paese alle esigenze di funzionamento istituzionale. La legge elettorale e tanti altri passaggi su cui pure c'è stato un lavoro importante dei cosiddetti saggi, da cui si può cominciare a partire per ragionare insieme. Però è ovvio che noi abbiamo un sistema politico che vive delle difficoltà, che ha una forza politica, come quella di Grillo, che comincia a perdere consenso, se è vero come è vero il dato del Friuli, ma abbiamo anche una crisi profonda all'interno del Partito Democratico, che mi auguro trovi una sua soluzione positiva, ma perché è giusto che i partiti abbiano un loro percorso, anche di confronto interno, e che il PD si è trovato a vivere una situazione di obiettiva difficoltà che oggi Napolitano ha inquadrato con grande onestà intellettuale e anche con grande lucidità, dicendo che il Partito Democratico si è trovato, lo dico dal punto di vista anche politologico, lungi da me mettermi a stare nei guai interni agli altri partiti. Insomma, ognuno pensa più o meno ai suoi, anche se per fortuna in questo momento io non ne ho. Ma Napolitano dice che il PD si è trovato a dover gestire un premio di maggioranza, anche un numero di eletti che questa legge elettorale gli dà, è uno degli appunti che Napolitano ha fatto, cioè un premio di maggioranza spropositato a fronte di un numero di voti di poco superiore a quello preso dal centro-destra, è tutta una serie di elementi di cui potremmo stare qui a discutere per molto tempo che hanno di fatto portato a un'implosione che si è, diciamo, esplicitata con l'abbattimento della candidatura di Marini, l'abbattimento della candidatura di Prodi e che oggi ci porta alla vigilia di una direzione importante che dovrà determinare... La proposta che credo a questo punto sia opportuno, su cui sia opportuno ragionare anche da parte del PD è quella di non un governicchio che tiri a campare, ma di un governo importante, politico, che guardi al futuro e che cominci a ragionare con delle spalle larghe per quanto è possibile in questo momento e tanto larghe sono le spalle quanto largo è il consenso parlamentare che ha e anche le personalità che riesce a coinvolgere. Il messaggio credo che al PD fosse giunto già forte e chiaro nelle ore scorse, non solo oggi. Ma oggi Berlusconi lo ha sottolineato con grandissimi... Ma Razziti, allora, l'elezione napolitano ha cambiato proprio gli scenari nei quali ci muovevamo. Tutto quello che l'altro ieri sembrava impossibile adesso improvvisamente torna nel novero delle cose che potrebbero accadere. Perché? Ma intanto, io credo che sia giusto almeno in questo primo giro, questa prima sera, goderci il fatto che abbiamo il Presidente della Repubblica. Io penso che sia un grande successo, fosse un dovere verso gli italiani e io penso quindi che entriamo in una fase diversa. Questa fase diversa è anche il fatto che ci ha spiegato come il Parlamento sia centrale, non ci può essere contrapposizione tra piazza e Parlamento, e ci ha ricordato che una cosa è la rete, altra cosa è la democrazia. Allora, io penso che oggettivamente oggi io personalmente mi sono anche commosso durante il discorso di Napolitano, la sua presenza in Parlamento e penso che anche potevo applaudire con grande felicità e senza retropensieri perché quella riforma elettorale che lui ha così sostenuto e che ha ricordato come fosse vergognoso il fatto di averla bloccata in Parlamento del Parlamento precedente, Scelta Civica fortemente la voleva, è nata per questo. cioè adesso quando dice si ribaltano le cose, no? Scelta Civica è una formazione più piccola delle altre in Parlamento, però c'è un bipolarismo che ha lacerato l'Italia, ha creato una contrapposizione feroce, ha creato un blocco strutturale, ha reso prigioniere molte buone energie e volontà dentro i grandi partiti, cioè noi avevamo visto questo blocco prima delle elezioni, non sarebbe mai nata Scelta Civica. Allora in questo contesto io dico oggi noi abbiamo sempre sostenuto la necessità di ricostruire l'Italia insieme, di creare una fase di riconciliazione nazionale. Con Napolitano oggi questa fase comincia. È stato faticoso, doloroso arrivarci così. Io sono certo, noi abbiamo bisogno del grande patrimonio umano, storico, politico che c'è dentro il Partito Democratico, non ho mai capito perché si è inseguita una maggioranza che non esisteva in Parlamento, quindi ci abbiamo messo più di 50 giorni ad arrivare ad oggi, a una ovvietà che ha ricordato Napolitano, in tutte le democrazie europee e occidentali si governa insieme, anche a volte con quelli che si è combattuto aspramente in campagna elettorale. Era questa ovvietà, Scelta Civica l'ha sempre sostenuto, l'ha sempre testimoniato, noi siamo disponibili a lavorare per la ricostruzione del Paese, è stata ignorata e poi concludo con un problema serio che si è scambiato il tweet, l'emozione del momento, la reazione sulla rete di quel momento con lo vuole il popolo. Allora, io voglio ricordare in questo momento a noi, agli italiani, anche al Partito Democratico, a tutti noi che abbiamo vissuto questa fase in Parlamento molto nevrotica che più di metà degli italiani non ha il computer, che 20 milioni di italiani non usa internet, che 29 milioni di italiani in primo luogo quelli che sarebbero tutelare di più. Esatto, quelli che sarebbero il popolo e che Rodotà è stato chiesto, ci ricordiamo quella foto davanti al Parlamento dell'altro giorno, alcuni colleghi del Movimento 5 Stelle sono usciti col cartello perché no Rodotà, spiegateci. Ora, erano parlamentari, era il caso che stessero dentro, non che uscissero fuori a farsi la foto. Allora, la ragione era semplice, Rodotà è un grandissimo uomo di cultura, di diritto, costituzionalista, ma un po' più divisivo di Napolitano che è una personalità unitiva, un buon motivo, no? Zogia, torniamo al PD perché il PD doveva essere la pietra d'angolo di qualunque maggioranza si potesse formare se non altro alla Camera perché voi siete maggioranza insieme naturalmente a SEL che ha numeri importanti. Adesso voi vivete una crisi profondissima perché prima il fallimento delle trattative per dar vita al governo, il risultato elettorale, il fallimento delle trattative per dar vita al governo i passaggi faticosissimi per voi per il Quirinale hanno portato Bersani alle dimissioni e voi un po' al tutti contro tutti perché è questa l'impressione che se ne ha. Poi vedremo i numeri del nostro sondaggio che testimoniano come l'opinione pubblica ha accolto questa situazione. Come vivete? Che cosa deve accadere? Riuscirete a portare la barca tutti insieme nella stessa direzione? perché le voci di gente che esce sono tante. Ma dunque noi vorrei spiegare insomma velocemente non è che siamo diventati matti improvvisamente dopo le elezioni il risultato elettorale è noto insomma sapevamo che il paese era diviso in tre blocchi il nostro tentativo di creare il cosiddetto governo del cambiamento era sostanzialmente legato a un tentativo di tenere una forte connessione con il paese non soltanto con il centro-sinistra ma insomma a una richiesta che proveniva insomma uscivamo da un anno e mezzo di governo non brillante dal punto di vista diciamo delle risposte sul campo economico sociale delle famiglie di chi ha milione eccetera eccetera e quindi pur comprendendo che i numeri erano non c'erano sostanzialmente abbiamo provato una strada che coinvolgesse anche il centro-destra sul tema delle riforme la cosiddetta convenzione diciamo per la modifica della costituzione questa cosa non è andata in porto ovviamente e sul capo dello Stato forse c'è stato l'equivoco vero perché noi abbiamo detto ancora un mese fa alla prima riunione dei gruppi parlamentari che il capo dello Stato doveva essere ricercato con larghe e larghissime maggioranze condiviso e quindi diciamo la rottura c'è stata nel momento in cui noi abbiamo fatto una proposta secondo me autorevolissima che era quella di Franco Marini e già all'interno della coalizione Italia Bene Comune abbiamo avuto un problema io insomma l'ho già detto anche all'amico migliore non ho capito fino in fondo perché non sia stata accolta la richiesta di votare Franco Marini perché ha le caratteristiche diciamo giuste per fare il Presidente della Repubblica e anche perché insomma faceva l'intesa con grande parte del Parlamento con il centrodestra e con scelta civica e quindi insomma a me il fatto che una autorevole rappresentante del centrosinistra faccia questo tipo di diciamo intesa lo trovo una ricchezza non un limite e non è andata e qui c'è stata diciamo c'è stato un problema perché il Presidente della Repubblica è il garante dell'unità dello Stato e quindi da che mondo è mondo lo si ricerca tra tutte le forze presenti in Parlamento perché non andava così completo il giro faccio un giro su questo e poi riprendiamo con Zoggia perché non funzionava ma io non so se Zoggia si ricorda bene quanto è stato il risultato di Marini ha preso 514 voti ne doveva prendere sulla carta 800 esclusi i nostri poi dirò perché per noi non andava bene e io non ho capito in tutta questa vicenda peraltro noi abbiamo votato Prodi anche facendolo vedere e ci sono stati ulteriori 100 franchitiratori ce ne sono stati almeno 220 franchitiratori dentro i 426 del PD su Marini noi abbiamo fatto una riunione alla quale abbiamo partecipato siamo andati via prima di votare per evitare che si sancisse lì una spaccatura si era praticamente spaccata a metà quell'assemblea non ho capito per quale motivo si è andati ostinatamente avanti senza trovare un consenso che non era solamente non trovato con noi ma con tutta evidenza all'interno del vostro partito il problema di avere 101 franchitiratori su Prodi che ha determinato una sorta di congresso perché hanno cambiato il gruppo dirigente hanno cambiato l'unica politica hanno vinto quelli diciamo così coperti dal segreto dell'urna praticamente questi mascherati esponenti del PD che brutta immagine però per loro dico brutta immagine sono stati chiamati traditori dal segretario mentre stava uscendo e si stava dimettendo io ho usato termini meno meno pesanti diciamo così finché non si capirà che forse quelli lì che hanno fatto i franchitiratori sono meno leali di noi che abbiamo detto guardate che non è un in sintonia con il paese come può essere Rodotà non ci capiremo mai e allora io capisco che c'è sempre bisogno per salvare un'organizzazione di dire noi siamo dentro l'organizzazione quindi i panni sporchi si lavano in famiglia invece non è così perché noi abbiamo semplicemente detto vogliamo una soluzione che sia espressione di quell'allargamento che vada anche in altre direzioni non solo quando si diceva larghe e larghissime intese ma perché non si poteva fare una larga intesa su un nome come Rodotà della nostra tradizione del nostro bagaglio culturale con una convergenza perché si cercava il voto di Baldelli il voto di Marazzini però potevamo fare una convergenza anche con il Movimento 5 Stelle io sono sicuro che dentro scelta civica alcuni avrebbero scelto di votare un altro problemino però io vorrei dire siccome ho vissuto con sofferenza la composizione diciamo di una serie di dichiarazioni che sono andate subito a cercare l'untore io lo vorrei dire anche a qualche elettore del PD che sicuramente tanti molti più dei nostri magari stanno guardando questa trasmissione noi siamo stati puliti nella trasmissione delle nostre idee altri dentro di voi hanno fatto saltare tutto e questo è il problema di una coalizione che secondo me deve invece rispettare se si fosse trattato di un provvedimento di governo lo dico anche rispetto alle cose che si dicevano la carta di intenti la carta di intenti diceva su singoli atti e provvedimenti non c'è più la carta di intenti mi pari di capire in questo momento no 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 avremmo mantenuto una disciplina di maggioranza questa non era evidentemente una scelta di governo sulle persone non è mai di questo tipo Baldelli tanto per venire ai nomi adesso eh no perché adesso comincia una fase completamente diversa ah certo e adesso la notizia di queste ore è che forse il Movimento 5 Stelle ve lo dico potrebbe addirittura non salire al Quirinale domani incontrerà incontrerà ha avuto parole durissime voi chi chi vorreste a Palazzo Chigi intanto la notizia del Movimento 5 Stelle non salire al Quirinale potrebbe potrebbe lo discuterà domani mattina in assemblea al miracolo che il Quirinale vada al Movimento 5 Stelle e poi vediamo insomma ecco liberi di non salire al Quirinale basta non marciano su Roma non fanno cose non è accaduto ecco anche perché sono impegnati in altre faccende tipo espulsione di quelli che vanno in televisione e cose varie che poi lo capisco perché poi anche la gente a casa comincia a vedere chi sono gli eletti e allora anche questo forse non va bene dopodiché i nomi li lasciamo diciamo al lavoro dei cronisti per il momento nel senso che è c'è l'importante che sia un governo politico questo sottolinea la premessa è che sia un governo politico forte con un consenso ampio e soprattutto non tanto chi ma cosa fare non tanto chi va al governo chi ricopre l'incarico di questo o quel ministero quanto sulle cose da fare ci sia un accordo importante e quindi magari come avreste votato Bersani potreste votare Ricoletta o Matteo Renzi sono alcuni dei nomi che si fanno oltre a quello naturalmente di Amato l'importante è che sia un governo politico il gioco sui nomi non lo voglio fare anche se mi sembra singolare che si sia tirato fuori questa sera in una trasmissione su questa rete poco prima il nome di Renzi non ce l'ha fatta quello che le elezioni le ha vinte e pensano di mettere in campo uno che le elezioni non le ha fatte dopodiché ecco è una battuta però credo che la cosa no no l'ho già fatta però forse mettersi d'accordo no più che l'ha fatta qualcun altro insomma qualche mezz'oretta fa però ecco probabilmente c'è da mettersi d'accordo sulle cose da fare perché obiettivamente poi la situazione è seria noi assistiamo a una situazione drammatica abbiamo le imprese che ci chiedono aiuto abbiamo la necessità abbiamo la cassa integrazione in scadenza dobbiamo reperire denari e dobbiamo far quadrare conti un miracolo non semplice per il quale ci vogliono dovreste restituire anche l'Imo forse è il caso di dare una sterzata un piccolo cambio di rotta rispetto al passato forse io credo di sì Marazziti ma è così difficile mettersi d'accordo sui contenuti in realtà in realtà no adesso io al contrario di molti altri parlamentari ho avuto il compito di partecipare alla commissione speciale che è l'unica che lavora in questo momento il Parlamento che lavora su tutti gli atti urgenti del governo quindi sul famoso decreto dei 40 miliardi per pagare i debiti pubblici amministrazione per le imprese e così via e quello che si è verificato è che c'è un lavoro enorme sulle cose concrete con una volontà molto chiara di aiutare a trovare i meccanismi più semplici per essere più efficaci subito per cui siamo arrivati ormai alla decisione di emendamenti sulla legge all'unanimità dopo un lavoro molto intenso e oggi il famoso lavoro dei saggi dei dieci saggi che era un po' una proposta anche nostra e che è stato all'inizio un po' deriso dopo la prima giornata che tutti erano d'accordo la seconda erano tutti non d'accordo in realtà ha lavorato a un programma che è di riforme istituzionali prima di tutto la riforma elettorale con una base di proposte economiche economiche e sociali ora c'è un programma molto robusto condiviso da queste personalità che comunque erano in collegamento con le forze politiche principali quindi io credo che abbiamo una base straordinaria pronta già per il prossimo governo che si può adecchire gli ultimi provvedimenti quindi io credo che possiamo sperare di avere A. un governo rapidamente B. di avere un governo che cominci a governare l'Italia davvero dalla parte degli italiani e poi dove c'è un programma firmato insieme dove la conflittualità quindi diventa molto marginale è bassa d'altra parte l'ha detto Napolitano la fase istruttoria è pressoché completata ci fermiamo un istante allora di nuovo in studio io vorrei poi torno al PD e ai problemi che cercherete di risolvere oggi in direzione volevo farvi vedere quello che è il sondaggio EMG per il Tg la 7 che abbiamo proposto ieri nell'edizione nell'edizione dell'eventi perché è ricco di sorprese allora al primo posto c'è la coalizione possiamo vedere il primo cartello di centrodestra che in questo momento è quella che raccoglie più voti il popolo della libertà sale al 27,1% più un e mezzo in una settimana e il totale fa 34,8% più 2,6% rispetto alla scorsa settimana vi ricordo che alle politiche il centrodestra era al 29,2% andiamo al secondo cartello che è quello relativo a quella che definiamo coalizione Grillo allora Grillo è lo vedete da questi numeri salito fortemente in questi sette giorni dal 23,9% al 29,1% più 5,2% aveva il 25,6% alle politiche di fine febbraio la terza coalizione è quella che ha vinto le elezioni del 24 e 25 ed è quella Italia Bene Comune con il partito democratico che in sette giorni è sceso dal 26,9% della nostra rilevazione precedente al 23 meno 6,6% invece si è rafforzata Sinistra Ecologia e Libertà più due punti al 5,2% vi ricordo che la coalizione Bersania era il 29,5% quindi sostanzialmente non lontanissimo un punto e due in meno addirittura alle scorse politiche poi possiamo vedere c'è Ingroia credo adesso avremo no il centro giustamente 6,4% 6,4% meno 1,7% rispetto all'8,1% della scorsa settimana aveva avuto il 10,6% alle politiche Gecco Ingroia meno 0,4% all'1,3% e poi qui il dato credo delle altri partiti 2% e poi il dato sulle schede bianche la stensione indecisi più 4,3% al 16,1% schede bianche al 3,1% la stensione è sempre alta anzi in crescita al 32,5% Zoggia come li legge questi numeri? Lei è uno che si occupa di enti locali e quindi i numeri li legge con attenzione e con interesse naturalmente è la foto però sicuramente della difficoltà che avete avuto di far capire quello che è accaduto dati 18 e 19 aprile quindi il giorno prima chiusa il 19 aprile questa cosa delle elezioni del Presidente ma insomma i sondaggi ci hanno insegnato che vanno presi con le pinze insomma anche prendendola con le pinze no lo dico nel caso siano positivi nel caso siano negativi perché i sondaggi diciamo ante elezioni dicevano cose completamente diverse per quanto riguarda la coalizione Italia Bene Comune comunque che ci sia stato un calo voglio dire mi pare abbastanza naturale noi veniamo da alcune settimane molto difficili in modo particolare gli ultimi giorni le dimissioni del segretario del gruppo dirigente quindi è evidente che in questa fase si è diciamo in difficoltà il dato in controtendenza è quello che diceva prima Gennaro Migliore è una elezione locale Friuli ovviamente il governatore Deborah Serracchiani però può segnalare alcune cose per esempio per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle può segnalare una diciamo difficoltà per l'atteggiamento che questa forza politica ha tenuto in questi mesi e in queste settimane sia per quanto riguarda la vicenda del governo sia per quanto riguarda la vicenda del Presidente della Repubblica sostanzialmente voti congelati e il fatto che domani probabilmente forse non andrà alle consultazioni del Quirinale si vedranno e voteranno testimonia un'ulteriore diciamo situazione secondo me anche di difficoltà che sta all'interno di quella forza di quella forza politica io oggi ho visto molto imbarazzo quando i grandi elettori del Movimento 5 Stelle non hanno applaudito diciamo il Presidente della Repubblica qualcuno si alzava qualcuno stava giù altri cominciavano a battere le mani francamente trovo che questo atteggiamento sia altamente improduttivo cioè noi abbiamo il 25% dell'elettorato italiano che congelato ha scelto diciamo di non dare nessun contributo per quanto riguarda la soluzione dei problemi se non dicendo vogliamo noi il Presidente del Consiglio vogliamo noi il Presidente della Repubblica e quindi per collegarmi a quello che diceva l'amico migliore il problema non è rodotà il problema è un po' la modalità con cui si dialoga all'interno del Parlamento e all'interno diciamo di alcune forze politiche cioè io penso che serva una disponibilità al confronto e noi l'abbiamo dimostrata in questi due mesi la disponibilità al confronto siamo andati a un confronto con il Movimento 5 Stelle in streaming ma vi ha allogorato questo ho capito che ci ha allogorato ho capito però siccome comunque rappresentano non è una roba che è un'umiliazione per una classe dirigente politica dai siete andati in streaming a spiegare a questi qua come funzionano le consultazioni rappresentano il 25% del territorio italiano io penso che bisognava andare fino in fondo per verificare per verificare la disponibilità o l'indisponibilità e devo dire che a me per esempio è molto dispiaciuto che su una proposta come quella di Romano Prodi al di là dei problemi interni che anche noi abbiamo avuto ha ragione migliore però lì non ci sia stata nessuna disponibilità quindi ho l'impressione che tutte le mosse che il Movimento 5 Stelle ha fatto in queste settimane di finta disponibilità di dichiarazioni prima sì poi no modificate eccetera è un modo è stato un modo per mettere in difficoltà in modo particolare il Partito Democratico e beh ci sono riusciti bene se questi sono i numeri Baldelli voi sembrate non aver sbagliato un colpo dalle elezioni in poi questo sembra questo sembra perché evidentemente sono stati fermi diciamo di fronte a tanti errori da un lato e dall'altro non aver commesso errori è un grande merito in questa fase e tra l'altro forse ha ragione Zoggia però mi pare che aver anche indicato esatto tra coloro noi abbiamo anche indicato la strada di Napolitano perché credevamo che potesse essere a un certo punto visti i caduti tra i candidati Presidenti della Repubblica potesse essere l'unica soluzione percorribile e ancora adesso sulla scorta di quello che dice Napolitano aderiamo visto che facciamo i cronisti si dice che Berlusconi stia gettando acqua sul fuoco naturalmente il PDL è una grande forza politica quindi ci sono molte anime anche all'interno molte sensibilità stia chiedendo di essere così tranquilli e attendere gli sviluppi degli eventi perché naturalmente la strada per quanto Napolitano voglia fare in fretta è ancora è ancora complessa per arrivare a un governo come è giusto che sia in una fase così difficile io volevo fare una riflessione sul Movimento 5 Stelle perché noi abbiamo due dati contrastanti abbiamo da un lato lo dicevamo prima il risultato del Friuli dove loro perdono un 10% dall'altro quello dei sondaggi dove invece e sono due dati contrastanti da un lato perdono il 10% dal lato i sondaggi dicono che guadagnano il 5% perché intercetterebbero evidentemente quell'uscita di consenso dalla coalizione del PD dai delusi del PD e quindi bisogna capire quale delle due è vera probabilmente per un verso i numeri nelle urne sono sempre meglio non c'è dubbio infatti per un verso si paga secondo me per un verso il Movimento 5 Stelle paga la mancanza di concretezza cioè il Movimento 5 Stelle quando fa lo tsunami tour grillo che dice tutti a casa assassini delinquenti criminali intercetta un voto di protesta che è di protesta in quanto tale e quindi non si può far rinfacciare a grillo che quel voto poi non diventa voto costruttivo per Prodi o per chiunque altro perché quello è un voto di protesta e grillo quel voto lo tiene in caldo dopodiché nasconde le facce si vede il fatto che oggi buttino fuori uno che è andato in un talk show è evidente perché loro nascondono le facce di quelli che candidano in Friuli questo non può farlo perché quando c'è da un lato tondo presidente uscente dall'altro la serracchiani che arrivano poi sul filo di lana credo che la differenza fosse stata meno di centinaio di voti insomma è un candidato chiunque sia di grillo che probabilmente non aveva pillo non aveva presa non so che cosa facesse ma evidentemente aveva meno perché ti identifichi in un volto mentre quando un volto funziona è diverso e anche qui grillo sul rodotà è andato a scegliere chi? è andato a scegliere uno che è stato deputato del partito comunista cioè non ha una sua classe dirigente una sua tradizione è normale ho capito però questo spiega per alcuni aspetti il perché di questi due elementi contrastanti dopodiché il fenomeno preoccupante in relazione a grillo è la deriva diciamo antidemocratica e in qualche modo anche violenta che c'è stata in questi giorni io sono uscito da Montecitorio l'altra sera dopo l'elezione e ho visto delle scene brutte ma veramente inquietanti quando uno voglio dire tutti noi che abbiamo fatto un po' di attività politica sappiamo sin da bambini da quando facciamo le manifestazioni all'università che quando bisogna fare una manifestazione in una piazza bisogna che questa manifestazione sia autorizzata dall'autorità perché è evidente che non autorizzare rischia di succedere un pasticcio la cosa grave di grillo al di là dei toni violenti dell'uso delle parole violento dell'atteggiamento comunque sempre violento è stato quello di innescare un meccanismo pericoloso in una città come Roma che non gli mancassero i problemi ha portato a un attacco violentissimo io voglio dire quello devo andare da Marazziti ho capito poi ci andiamo però l'ultima cosa lontano dal punto di vista della provenienza politica ma quello che è successo a Franceschini a Fassina quello che è successo a Fassina così come quello che è successo a Lupi io ho assistito una scena veramente raccapricciante cioè dare a questo signore la responsabilità la credibilità di un leader di partito è forse un grande problema perché purtroppo fare anche leader di partito implica un senso di responsabilità che è quello per cui a un certo punto la base la si frena la si guida non la si interpreta solo specie negli istinti più volenti perché poi quando succede qualche guaio ma Badelli è dello stesso perdito di Berlusconi ci fermiamo un istante a proposito diciamo di chiiaizza la protezione non è mai successo che un militante di Berlusconi abbia aggredito qualcuno se è successo diversamente che Berlusconi sia stato aggredito insultato addirittura con degli effetti no no dicevo sui toni sui toni moderati che esprime normalmente Berlusconi fermiamo un istante Berlusconi è un uomo di governo allora di nuovo in studio l'ultima parte di Omnibus Notte Marazziti al netto di quello che è accaduto oggi del Movimento 5 Stelle che si è alzato in piedi però non ha applaudito il capo dello Stato se si è alzato in piedi qualche secondo è sempre stato seduto come valuta come valuta ecco proprio una forza politica così grande il suo atteggiamento rispetto ai problemi che abbiamo in questo momento l'appello del presidente il comportamento qual è il suo giudizio? ma io penso che siamo di fronte a una forza che ha i suoi inizi in Parlamento esatto se io fossi uno di loro e ho degli amici ho cominciato a parlare con alcuni a lavorare assieme nella commissione certo siete colleghi poi sarei sarei molto più umile cioè il Parlamento è un bene dell'Italia non è qualcosa da smontare imparare che il Parlamento ha bisogno del governo ha bisogno del capo dello Stato del potere esecutivo per funzionare non possiamo perdere due, tre, quattro settimane di dibattito ah non si fa niente in Parlamento bisogna fare le commissioni cioè bisognerebbe io credo restituire la centralità al Parlamento imparare come lavoriamo come stiamo imparando a lavorare intensamente e quindi io credo e mi auguro che sia una fase iniziale quindi io credo che ci sono molte cose da fare ho incontrato oggi alcuni colleghi del Movimento 5 Stelle e gli ho detto avrete in casella il progetto di legge sulla cittadinanza che ho proposto con altri quindi esaminatelo se volete essere anche voi firmatari però quello che io vorrei dire in questo momento non al Movimento 5 Stelle ma oggi mi è dispiaciuto per loro che non potessero essere felici del fatto che eravamo nel momento più solenne dell'inizio della legislatura ecco io penso che quello che oggi mi sembra molto importante è che bisogna ricordarsi che la democrazia in un tempo complesso come il nostro difficile come il nostro non può essere come Facebook mi piace non mi piace tutto bianco tutto nero noi dobbiamo costruire soluzioni difficili in un tempo complesso io ricordo che è la politica ma questo non è inciucio cioè accordarsi bisogna abolire la parola inciucio quando non c'è interesse personale il governo non serve per fare le poltrone il governo serve per governare e fare quello di cui c'è bisogno per gli italiani allora quando ci si accorda non è mai male voglio solo dire un'ultima cosa io ho lavorato direttamente guidavo una parte del negoziato con altri nella fine della guerra tra Uto e Tuzzi il genocidio del Burundi con Nelson Mandela erano 800.000 morti abbiamo costruito il modo di lavorare assieme di vivere assieme quando avevano paura di andare a dormire e che durante la notte sarebbero stati ammazzati se firmavano la pace bene noi possiamo riconciliarci in Italia è tempo di ricostruire questo è quello per cui noi lavoriamo è migliore negli ultimi tempi mi sembra che voi di Sella abbiate cominciato a costruire un qualche rapporto non di antagonismo ma che potrebbe diventare anche politico con 5 Stelle oppure camminate per vie parallele ma distanti ma non credo che avremo nel corso delle prossime settimane avvicinamenti di tipo politico in senso stretto abbiamo sempre prediletto un confronto nel merito e tra l'altro su molti provvedimenti e anche progetti di legge presentati abbiamo trovato uno spirito di collaborazione interessante io sono perplesso quando mi si viene a raccontare solo di una certa incapacità a vivere le istituzioni del Movimento 5 Stelle perché se è vero che hanno un leader che peraltro è fuori dal Parlamento notoriamente aizza magari con parole scarlatte anche la piazza posso assicurare che per quanto abbiamo visto anche in questo avvio anche la proposta sulla quale eravamo d'accordo anche noi di partire subito con le commissioni non era una proposta strumentale ma era una proposta per dare però qualche consonanza si è trovata sì 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 ma io penso che sia importante per esempio Marazziti adesso ha detto una cosa che se sarà proposta dal prossimo governo io voto a due mani non a una cioè la legge sulla cittadinanza e gli immigrati solo che quello sarà un governo retto con una maggioranza che c'ha dentro il PDL e la Lega voglio vedere se quello è un governo di cambiamento e se fa per esempio la legge sul conflitto di interessi dubito oppure se fa la legge sulla corruzione e questo è il problema del governo il minimo comune è multiplo o cos'altro però quali sono le riforme importanti per questo paese eh no ma il punto ma il punto no no ma infatti questo l'ho detto prima io e sono d'accordo ma il punto qual è quali sono le riforme importanti per questo paese è importante fare una legge contro la corruzione visto che la corruzione in politica è assolutamente uno degli elementi più devastanti anche di questo e se ci troviamo in queste condizioni esattamente per questo basta implementare quella del governo allora sì però non si è fatta prima non credo che con Berlusconi che a questo punto è addirittura tronfio all'interno di questa maggioranza lo si farà allora io su ogni provvedimento lo voglio dichiarare qui su ogni provvedimento che avrà una diciamo un interesse e un segno di cambiamento per il paese accolgo diciamo il suggerimento di Marazziti sarò prontissimo a votarlo ma io non mi fido di un governo che sarà retto anche per tutelare gli interessi di Berlusconi e del suo partito questo è chiarissimo allora vi chiedo solo una previsione proprio Zoggia si fa o no il governo o si va alle elezioni secondo lei ma direi che dopo il discorso di oggi di Napolitano ci sono buone probabilità che il governo si faccia Baldelli se il PD esiste ancora ed è d'accordo su questa prospettiva il governo si fa si fa di legislatura altrimenti noi come abbiamo visto dai sondaggi siamo favoriti alle elezioni andremo alle elezioni vinceremo e a questo punto governeremo noi se prenderemo un certo consenso o no vedremo quello che succede noi crediamo che l'urgenza in questo momento sia dare risposte immediate alle esigenze del paese che non sono quelle per cui le persone si suicidano non arrivano alla fine del mese c'è una crisi economica importante quindi bisogna reperire risorse cassa integrazione vita quotidiana ma realtà e Marazziti secondo lei si fa? ci vediamo venerdì col governo spero di sì e migliore? ma io penso che il governo si farà ma che la spina la stacca e l'attacca Silvio Berlusconi c'è il telegiornale sportivo adesso domani mattina cioè fra poco alle 7 l'altra edizione di Omnibus dibattito alle 8 noi ci vediamo qui domani sera grazie arrivederci